Verso i play-off con una certezza in più, il Monopole ha praticamente definito il riscatto di Giuseppe Carriero. Il centrocampista classe 1997, protagonista nella stagione bianco-verde con quattro reti, un assist e una presenza costante negli schemi di Beppe Scienza, è stato uno dei pilastri nell'annata dei record, 57 punti mai così in alto nella storia tra i pro e terzo posto al momento dello stop obbligato per l'emergenza coronavirus. Così il club ha deciso di avvalersi del diritto di riscatto per il giocatore, ben voluto dai compagni di squadra anche per la sua abilità nell'ideare esultanze bislacche. Una scelta nell'area già prima del lockdown, accelerata anche dalle disposizioni diffuse dalla FIGC circa i tesseramenti per la stagione 2020-2021, con la definizione delle date per diritti di opzione e contro opzione previsti dai trasferimenti temporanei. Il riscatto di carriero permetterà al Monopoli da una parte di blindare il secondo giocatore della Rosa per minuti in campo, dall'altro di patrimonializzare le prestazioni di un atleta che ha diversi club sulle sue tracce anche in Serie B. Il futuro però passa prima dagli spareggi promozione, dove il Gabbiano entrerà in campo da testa di serie nel primo turno della fase nazionale il 9 luglio.